Salva a tutti! Ventilazione meccanica controllata, meglio conosciuta come VMC. Che cos'è? Come funziona? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi? Lo scopriremo all'interno di questo video. Quindi non perdiamo altro tempo, metti mi piace e cominciamo! Bentornati in questo nuovo video. Un paio di settimane fa ho parlato del comfort, del concetto di comfort e partendo da quel video ho deciso di approfondire gli aspetti relativi a questa tipologia di prodotto la ventilazione meccanica controllata. Infatti anche all'interno del gruppo Facebook e se non ne fai ancora parte iscriviti al gruppo Facebook, ti lascio il link in descrizione ho richiesto a voi quale sarebbe stato l'argomento del prossimo video e in tantissimi avete votato proprio questo argomento, ossia la ventilazione meccanica controllata. Questo molto probabilmente perché questo prodotto innovativo, diciamocelo nelle case vecchie ma nelle case anche nuove di dieci anni fa, la ventilazione meccanica non era prevista è uno dei prodotti più nuovi, più sconosciuti ed essendo poco conosciuto porta con sé tantissimi dubbi, tantissime perplessità proprio legate all'inesperienza. Infatti non sono neanche tantissimi i progettisti, gli ingegneri che la consigliano proprio per mancanza di esperienza. All'interno di questo video ho quindi deciso di rispondere di introdurre la ventilazione meccanica proprio secondo tre aspetti fondamentali come funziona, quali sono i vantaggi e quali sono gli svantaggi. Mi raccomando resta con me fino alla fine del video perché introdurrò anche quelle che sono le differenze tra i vari modelli presenti sul mercato. Ma bando alle ciance. Partiamo. Come funziona la ventilazione meccanica controllata? Qual è il suo ruolo? Nella descrizione delle componenti della ventilazione meccanica controllata ovviamente potrai tu stesso capire qual è il ruolo, qual è la funzione di un impianto di ventilazione meccanica controllata. Un impianto di ventilazione meccanica controllata è formato semplicemente da tre componenti che possono però ovviamente cambiare forma e dimensione. un sistema di tubazioni per i condotti da reazione. Abbiamo una ventilazione quindi l'idea di ricambiare l'aria. L'attività che quotidianamente potresti svolgere aprendo le finestre per cambiare l'aria. La ventilazione meccanica controllata come dice il nome è una ventilazione. Permette di ricambiare l'aria e per fare ciò ha bisogno di alcuni condotti di aspirazione per aspirare l'aria degli ambienti, alcuni condotti di immissioni per immettere l'aria all'interno degli ambienti e poi abbiamo anche l'espulsione e l'aspirazione verso l'esterno dell'abitazione. La seconda componente di un impianto di ventilazione meccanica controllata è il recuperatore termico. Perché? Perché l'obiettivo di un impianto di ventilazione meccanica controllata è quello sì di cambiare l'aria ma di evitare di disperdere il calore. Nel periodo invernale puoi facilmente intuire che aprendo le finestre l'aria calda riscaldata spendendo soldi ed energia tramite l'impianto radiante all'interno della tua abitazione viene espulsa, viene sprecata all'esterno. La tua stanza viene invece riempita da aria fredda proveniente dall'esterno. Aria fredda che dovrai nuovamente riscaldare. Il recuperatore termico che può essere di varie forme con strategie diverse, intalpico, rotativo eccetera eccetera, ha il compito di trattenere il calore all'interno dell'abitazione. Il calore che faticosamente ed economicamente hai generato per scaldare casa, per stare bene all'interno di casa tua. La terza componente di un impianto di ventilazione meccanica controllata è il filtro, il sistema di filtrazione che anche qua può essere più o meno performante. Il compito è molto semplice, mentre sono lì che sto utilizzando dei condotti di aspirazione e espulsione dell'aria e sto cercando di trattenere il calore all'interno dell'edificio, posso andare a filtrare l'aria, sia l'aria ambiente sia l'aria esterna. Per esempio il purificatore Dyson, ovviamente Dyson non mi sta pagando, anzi Dyson se stai ascoltando sono disposto a prendere i tuoi soldi, il purificatore d'aria, il purificatore ambientale e un sistema di filtrazione dell'aria. Un impianto di ventilazione meccanica controllata quindi unisce la più tradizionale apertura delle finestre, il più tradizionale ricambio d'aria con un sistema di filtrazione proprio per ridurre al minimo quelle che sono le sostanze volatili, polvere, peli, acari e così via e ridurre al minimo le dispersioni di calore verso l'esterno. Infatti adesso che abbiamo fatto questa introduzione possiamo approfondire un pochettino quelli che sono i vantaggi e gli svantaggi ma penso siano già abbastanza chiari. Il primo vantaggio e forse il più importante di un impianto di ventilazione meccanica controllata è per l'appunto la possibilità di avere aria pulita, aria sana, aria salubre. Questo lo si ottiene secondo i due meccanismi che ti ho appena spiegato. cambiando l'aria interna con l'esterno quindi vado a espellere l'aria ricca di umidità, l'aria ricca di co2 perché all'interno dell'abitazione respiriamo e introduciamo vapore aqueo eccetera la vado a espellere. Nel frattempo vado a introdurre aria sana, aria più fresca, più ricca di ossigeno e tramite il filtro vado a ridurre l'introduzione di pm10, pm2, mezzo. Vado a raccogliere all'interno del filtro muffa, polvere, peli, capelli, acari, tutto quello che solitamente è presente all'interno dell'aria senza che noi ce ne accorgiamo proprio perché quando tu apri la finestra dall'esterno entra l'aria con il suo smog, con la sua fuligine se sei in zona montana e la gente è solita a scaldarsi con i sistemi a biomassa. Quindi il primo vantaggio della ventilazione meccanica è proprio la salubrità dell'aria e proprio in questo periodo dove siamo soggetti a una pandemia globale il ricambio d'aria permette di avere una casa o un ufficio più sano, più salubre proprio perché vado a miscelare. L'aria interna ricca di sostanze volatili organiche che possono essere anche il radeon che viene fuori da determinati terreni, la formaldeide che può venire fuori da alcuni mobili, odori, sostanze che danneggiano i nostri polmoni, li vado a buttare all'esterno introducendo all'interno dell'abitazione aria sana tenendo sempre fuori quelle sostanze che all'esterno non sono così sane, PM10, PM2,5, la polvere e così via. Il secondo vantaggio è legato al fatto che questo sistema per rendere l'aria salubre, che è un sistema che già tutti utilizzano aprendo le finestre e cambiando l'aria lo rendo efficiente perché come anticipato riduco gli sprechi e qua è fondamentale la scelta della tipologia e dell'efficienza del recuperatore termico. Ci sono recuperatori termici più efficienti altri meno efficienti. È fondamentale tenere l'energia all'interno di casa proprio perché se no che senso ha? Parliamo di sostenibilità ambientale quando ogni due per tre se una volta al giorno, una volta ogni due giorni spalanchi le finestre tu stai sprecando, stai buttando all'esterno tantissima energia che hai ottenuto investendo soldi e tempo facendo funzionare la pompa di calore, la caldaia, quello che hai per scaldare e quindi riduci il comfort domestico. Stesso discorso lo possiamo fare ribaltato nel periodo estivo, vado a tenere fuori da casa mia il caldo. Ragioniamoci, tutti stiamo impazzendo dietro questo ecobonus, vuoi per il cappotto, vuoi per i serramenti, ma se la casa è tutta bella sigillata, tutta bella isolata, ma ogni giorno io spalanco la finestra, che senso ha? Una delle componenti più pesanti delle dispersioni verso l'esterno sono le dispersioni per ventilazione che sono i cosiddetti spifferi. Gli spifferi danno fastidio e sicuramente se hai dei serramenti obsoleti te ne sarei reso conto. Per questo i serramenti nuovi sono proprio stagni, vanno a bloccare ogni spiffero, hanno un sigillo, hanno delle guarnizioni spettacolari e se vai a spendere migliaia e migliaia di euro per avere un serramento molto performante, iperisolato, con una resistenza alle infiltrazioni incredibile, ma ogni giorno spalanchi quella finestra, che senso ha? Per questo un motivo per cui ti consiglio di valutare un impianto di ventilazione meccanica controllata e per l'appunto il risparmio energetico, perché ti permette di unire la salubrità degli ambienti, che in questo periodo qua è sicuramente molto molto importante, con il risparmio energetico. Il terzo vantaggio relativo agli impianti di ventilazione meccanica controllata è il comfort. Facciamo un passo indietro. Probabilmente stai valutando di investire decine di migliaia di euro in serramenti performanti, in un sistema di isolamento termico, cappotto, insufflaggio e così via, che però potrebbe aumentare, potrebbe incrementare la formazione di muffe all'interno dell'abitazione, proprio perché la muffa si forma negli ambienti ricchi di umidità. L'umidità si può smaltire in vari modi, ne ho parlato in un vecchio video che ti lascio qua linkato e uno dei modi più tradizionali per smaltire l'umidità è proprio quello di ricambiare l'aria, di buttare fuori l'aria umida e fare entrare aria fresca, aria fredda, secca e l'esempio palese ce l'hai quando ti fai la doccia. Quando ti fai la doccia è buona cosa spalancare le finestre, proprio per evitare la formazione della muffa, proprio per evitare che l'alta percentuale di umidità possa condensare nei ponti termici, sulle superfici fredde, nel bagno banalmente ti si appanna il vetro, quindi lì c'è il punto freddo, condensa, la condensa non è nient'altro che micro goccioline di acqua e dove c'è l'acqua c'è la possibilità di formazione della muffa. Un impianto di ventilazione meccanica controllata quindi riesce a ottimizzare il comfort perché abbassa il livello di umidità e come ti ho accennato nel video precedente l'umidità è una delle componenti che vanno a influenzare maggiormente il comfort. Il senso di calura, di afa, ce l'abbiamo quando l'aria è ricca di umidità, non è tanto la temperatura estiva ma è l'umidità e questo senso di appiccicaticcio che ci invoglia ad accendere un climatizzatore. Non è tanto la sola e semplice temperatura, riducendo quindi l'umidità vado ad avere una casa più confortevole e parallelamente anche una casa più sana. Ovviamente questi tre vantaggi, quindi salubrità, efficienza e comfort sono strettamente correlati tra loro. Queste tre componenti, quindi salubrità degli ambienti, risparmio energetico e gestione del comfort, gestione dell'umidità, sono strettamente correlate tra loro ma a seconda dei vari modelli che esistono nel suo mercato, modelli di ventilazione meccanica, ci sono quelli centralizzati, quelli puntuali, quelli doppio flusso, quelli flusso incrociato, quelli entalpici, quelli rotativi e così via, i tre aspetti si bilanciano in maniera diversa. Ci sono prodotti più performanti per quel che riguarda l'assolubrità degli ambienti, altri più performanti per quel che riguarda l'efficienza e quindi è fondamentale conoscere questi aspetti per saper identificare il prodotto giusto. Lo sapete però, per ogni vantaggio vi è sempre uno svantaggio. Ovviamente il peso del vantaggio e la sensibilità allo svantaggio è molto soggettivo. Alcuni aspetti come la rumorosità sono soggettivi, c'è chi non riesce a dormire se c'è un filo di rumore o se c'è anche solo un led acceso per esempio e chi invece dorme come un ghiro anche se c'è rumore, anche se c'è la luce accesa. Quindi ci sono vantaggi e svantaggi che sono soggettivi. Però è giusto conoscere anche gli svantaggi, anche i limiti di un sistema di ventilazione meccanica controllata per poter avere una visione d'insieme a 360 gradi proprio per evitare di cadere nell'inganno della cadrega. Ah no, bravo Gino! Proprio per non cadere nelle promesse dei venditori che esaltano tantissimi vantaggi e non ti introducono agli svantaggi, ai limiti di questa tecnologia. Quindi è giusto che tu sappia anche quali sono gli svantaggi che si celano dietro un impianto di ventilazione meccanica controllata. Quindi seguimi ancora un paio di minuti. Uno dei limiti principali della ventilazione meccanica controllata è il fatto che per essere davvero efficiente deve essere molto invasiva. Dobbiamo andare a lavorare con dei condotti di aereazione in ogni stanza proprio perché non ha senso concentrarsi solo sulla ventilazione di una singola stanza. Poi dipende ovviamente da caso a caso. Ma un impianto davvero performante ed efficiente è un impianto canalizzato centralizzato e devi però immaginarti all'interno di casa tua di far passare condotti a sezione di 8-10 cm in giro per casa e da qualche parte devono passare. Quindi sicuramente durante le ristrutturazioni un impianto centralizzato è più facile da realizzare rispetto a una riqualificazione un po' più blanda. Per questo ci sono prodotti centralizzati e prodotti puntuali. Quindi non disperare se non hai la possibilità di passare con i condotti in giro per casa con un controsoffitto e così via ci sono i prodotti puntuali. Ma in ogni caso anche essi sono prodotti invasivi. Non è come cambiare la caldaia o montare un impianto fotovoltaico che quindi opero fuori da casa tua. Io devo entrare in casa tua, devo fare delle opere edili all'interno di casa tua. Sia che sia un impianto di ventilazione meccanica puntuale sia che sia un impianto di ventilazione meccanica centralizzata. E se non hai ben chiaro quali sono le differenze tra centralizzate e puntuale non disperare prossima settimana uscirà un video dedicato proprio a questo confronto tra questi due argomenti. Se non te lo vuoi perdere iscriviti al canale e attiva la campanella proprio perché nei prossimi giorni approfondirò ogni aspetto della ventilazione meccanica controllata vista la sensibilità e l'ignoranza che ruota attorno a questo prodotto. Il secondo difetto è la manutenzione. Facciamo un passo indietro. Nella casa del 2020, nella casa che vorrei, tutti mi parlano sempre di ridurre al minimo i costi fissi, ridurre al minimo gli interventi di manutenzione e ad oggi la possibilità esiste. I pannelli fotovoltaici sono garantiti 25 anni su prodotto, su resa, l'inverter anche può essere garantito fino a 25 anni, le pompe di calore hanno praticamente zero manutenzione rispetto a una caldaia, ma in una casa nuova, la ventilazione meccanica potrebbe essere l'unico prodotto che necessita di una manutenzione costante annualmente, proprio perché per avere un vantaggio, la possibilità di avere aria salubre, aria filtrata, io ho dei filtri che devo andare a sostituire. Ogni quanto devo sostituire i filtri? Non te lo posso dire. Può essere sei mesi, può essere un anno, può essere due anni. Dipende ovviamente da dove abiti. Se abiti in centro a Torino, visto che spesso vedo la nube di smog attorno a Torino, è consigliabile forse cambiare i filtri una volta all'anno. Se abiti invece in mezzo alle montagne potrebbe essere sufficiente una volta ogni due anni. Fatto sta che c'è una piccola manutenzione annuale da mettere in conto e oltre un aspetto di tempo di intervento è anche un aspetto economico. L'aspetto economico è molto blando, parliamo di meno di 100 euro all'anno, sia chiaro, però è un aspetto da considerare. Cioè in una casa tutta moderna dove gestisco tutto del cellulare e posso non muovere un dito, perché dopo tutto stiamo diventando sempre più pigri, ma chiamiamoci stupidi, cioè la tecnologia ci permette di essere comodi, allora perché non essere comodi? La ventilazione meccanica controllata necessita di una manutenzione, di un'attenzione maggiore. Poi ovviamente tutti questi impianti spesso sono dotati di sensori che ti avvisano di quando è necessario cambiare il filtro e così via. Un pochettino come un aspirapolvere. Anche all'interno dell'aspirapolvere ci sono dei filtri che vanno ogni tanto puliti, vanno svuotati, nessuno si fascia la testa. Però è importante conoscere che esiste questo difetto. Terzo e ultimo difetto degli impianti di ventilazione meccanica controllata risiede nel costo, perché è un costo importante. Non parliamo di 200-300 euro, ma parliamo di migliaia di euro per fare un impianto. Sia che si tratta di impianto centralizzato per tutta casa, sia che si tratta di decine di impianti puntuali nelle singole stanze, parliamo comunque di migliaia di euro. Parliamo di 5, 6, 10, 15 mila euro a seconda della complessità e delle componenti che decido di inserire all'interno degli impianti. Questo costo, inoltre, ad oggi, salvo modifiche, salvo interpretazioni, interpelli e così via, sembra non essere detraibile al 110% e neanche al 65%. Poi c'è chi lo portava in detrazione al 65% facendolo rientrare nella categoria dell'efficientamento energetico dell'edificio a livello globale. C'è chi lo porta a detrazione al 50% come ristrutturazione, quello sì si può fare, però ha un costo importante e in un intervento legato al super ecobonus al 110% sicuramente non è detraibile ad oggi. Ripeto, poi tutto può cambiare. Vale la pena spendere migliaia di euro nell'impianto di ventilazione meccanica controllata? Non te lo so dire. Perché? Perché non è un prodotto che ti fa risparmiare. Riduci gli sprechi, quindi questo sì genera un risparmio, ma non ti posso giustificare la spesa di migliaia di euro con il risparmio ottenuto impedendoti di aprire le finestre. Perché potremmo parlare di 100 euro all'anno se apri le finestre, ok? A meno che non sei proprio un fenomeno che tiene le finestre aperte tutto il giorno, ma non penso sia questo il caso. Però vado ad investire questi soldi per avere dei vantaggi che a livello della soggettività possono essere più o meno importanti. Quanto è importante per te che casa tua sia salubre? Quanto è importante per te avere una casa confortevole? Quanto è importante per te avere una casa dove non si forma la muffa? Dove i tuoi polmoni sono protetti? Perché questo è il compito principale, proteggere il confort della persona. Il confort di una persona si sviluppa su vari aspetti. Con la ventilazione meccanica controllata c'è una regolazione, una gestione del comfort dell'individuo, sia dal punto di vista termico, regolando l'umidità e in abbinamento un impianto di raffrescamento, ottimizza ancora, posso sfruttare la pompa di calore sul pavimento per rinfrescare e così via, ma soprattutto dal punto di vista della salubrità. Aria sana, aria fresca, pulita, filtrata, dove non ho la formazione di muffa all'interno di casa, quindi con le varie spore che potrebbero entrare nei polmoni. È molto soggettivo. Si è chiaro, fino all'altro ieri nessuno faceva caso a questi aspetti, ma come fino a vent'anni fa nessuno faceva caso all'insonorizzazione delle case e adesso diventa fondamentale avere un serramento insonorizzato, proprio perché c'è una sensibilità maggiore e questa pandemia purtroppo ha evidenziato alcuni limiti legati alla nostra sensibilità relativa all'igiene, alla salubrità degli ambienti. Per questo la ventilazione meccanica è ancora oggi uno dei consigli maggiori proprio per ridurre il contagio, proprio perché miscelando l'aria, proprio perché cambiando l'aria vado a espellere i prodotti inquinanti. Non voglio aprire la parentesi dell'inquinamento perché il concetto di inquinante è relativo al soggetto, alla quantità. La CO2 è un inquinante? Sì, no, forse. C'è nel senso ovvio 5 persone in una stanza senza ricambiare l'aria alla lunga la procettuale di CO2 aumenta all'interno della stanza e sopra una certa soglia può diventare un inquinante, ma anche l'ossigeno se tu avessi in una casa solo ricca di ossigeno è anch'esso un inquinante, quindi non voglio scendere troppo in questi particolari qua. Però ovvio cambiando l'aria, avendo aria fresca, sana, secca, posso andare a migliorare il benessere dei miei polmoni e la salute secondo me giustifica l'investimento. Sono aspetti molto soggettivi che vanno presi ovviamente con le pinze di caso in caso, se hai un figlio asmatico, se patisci di asma, ovviamente è ancora più importante, se sei un pochettino una roccia e non ti garba andare a investire migliaia di euro o non puoi banalmente investire migliaia di euro in questi prodotti qua, è giusto, non sono prodotti, impianti fondamentali, sono degli accessori che possono essere fondamentali in alcuni casi, soprattutto se vai a isolare casa in maniera molto molto importante, quindi con seramenti nuovi, con cappotto nuovo e ti parlo per esperienza, io ho dovuto cambiare casa a causa di un problema di muffa, quindi ho una sensibilità su quell'aspetto e molto soggettivo. Spero con questo video di averti dato una pennellata grossolana su quello che è l'argomento della ventilazione meccanica controllata. Ovviamente come anticipato nei prossimi video farò dei confronti un po' più serrati tra l'impianto centralizzato, l'impianto puntuale, vantaggi e svantaggi, quale scegliere, all'interno degli impianti canalizzati, quali sono i recuperatori migliori, rotativo, entalpico e così via, ventilazione meccanica puntuale, quali sono i pro, i contro, mettiamo a confronto più prodotti, sono tutti video di approfondimento che realizzerò nelle prossime settimane. Se non vuoi perderti nessuno di questi video, iscriviti al canale e attiva la campanella. Per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti se avete ancora dubbi o perplessità, vedrò di rispondervi nei prossimi video e niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!